Mille e venti, duemilaventi, mille anni dalla nascita di un grande uomo, un nostro concittadino, un santo che ha cambiato la storia, il papa che ha fatto inginocchiare un imperatore, Gregorio VII, il Tebrando da Sovana. Un anno di eventi e festeggiamenti con i comuni di Sorano e Pitigliano, Toscana. Grazie per la visione!